Buongiorno qui è Genio del Tubo e oggi me ne approfitto per salutare Beci, Abdel Arman, Zè, Zen e inoltre saluto anche Nanomen e Matteo Torri e via col video vero e proprio senza perdere altro tempo. Il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo, il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo, il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo, salve sono Genio del Tubo e oggi a causa di un errore di consegna abbiamo i magazzini pieni di pupazzi che salutano come uno scemo, la vostra vita vorrà di più! Attirate i clienti, confondete i vicini, afroamericano richiama un taxi, fate dai testimoni oppure sollevate un putiferio, aiutate la nonna e proteggete il raccolto! Qualunque cosa vi serva, il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo sarà disponibile all'emporio di Rigapo di Bresa, compratelo anche voi! Esatto gente, compratelo, compratelo subito!